La carenza di competenze logico-matematiche, la scarsa relazioni di gruppo, la scarsa motivazione o l'assenza di passione le ho recuperate facendo svolgere l'attività pratica in laboratorio. Ma volete sapere qual è la soluzione tecnologica che mi ha dato maggiori soddisfazioni? Arduino Una scheda elettronica facilissima da utilizzare Un ambiente di programmazione che permetterà di realizzare programmi che verranno eseguiti sulla scheda elettronica per la realizzazione di moltissimi progetti che potranno avere una forte interazione col mondo reale. Quindi potremo connettere e comandare con la scheda sensori, motori, led e molto altro. Potremo costruire strumenti di misura, giochi, ausili didattici per necessità specifiche, oggetti per sperimentare le arti e mille altre cose. Uno degli ambiti che maggiormente viene svolto a livello laboratoriale è quello della robotica educativa. Vi mostrerò come sviluppare il percorso di coding e robotica con Arduino e lascerò a voi tutto il materiale che ho sviluppato e che potrete ampliare e migliorare. Vi aspetto quindi al mio corso e come dico sempre, buon making a tutti! Grazie a tutti!